Il 22 ottobre 1964 sul lago di Sagami in prossimità di Tokyo si svolgevano le finale olimpiche delle gare di canoa velocità. Due imbarcazioni italiane conquistarono la finale. Si trattava del 1000 metri kayak K2 maschile con Cesare Beltrami e Cesare Ziglioli e del 1000 metri kayak K4 maschile con Claudio Agnisetta, Cesare Beltrami, Angelo Pedroni e Cesare Ziglioli. Un quinto atleta, sempre cremonese Alberto Speroni, partecipò alla preparazione del gruppo. Entrambi gli equipaggi si classificarono al sesto posto su nove canoisti. Per ricordare questo evento, a 50 anni di distanza, i cinque atleti si sono dati appuntamento alla Canottieri Baldesio insieme ai tanti amici con cui in quegli anni e nei decenni successivi hanno condiviso la passione per la canoa. Vuole essere la nostra, credo no ragazzi, una testimonianza di amicizia, di amicizia che è durata 50 anni, noi abbiamo continuato a incontrarci con una cadenza annuale o biennale e questa amicizia è nata in barca e è continuata poi anche fuori nella vita, nel mondo della canoa perché ci è rimasto e perché non ci è rimasto lo stesso, siamo stati comunque amici. Quindi l'emozione c'è, è un ricordo bellissimo, a mano ci vengono in mente gli aneddoti, le persone, le figure. Questa mattina ho preparato i risultati e tanti nomi non me li ricordavo più, invece poi dovendoli riscrivere sono tornate alla mente le persone e quei loro visi. È un ricordo che non si può descrivere, guardi, speriamo di vedersi ancora tra quattro anni. Avevamo la semifinale con tre equipaggi molto forti di cui c'era l'Ungheria, la Germania, la Polonia e noi. L'unica che potevamo pensare di battere era la Polonia. Così è successo che praticamente per pochi centesimi l'abbiamo bettuta e siamo andati in finale. La cosa che praticamente per noi è come se fosse stata una vittoria. Quello che ho, indelebile, che non si cancellerà mai, è l'emozione che abbiamo provato quando la squadra italiana è entrata nello stadio a Tokyo, dove, diciamo, tutto lo stadio si è alzato in piedi. È stata un'ovazione. Rispetto alle altre nazioni che battevano le mani, con l'Italia si sono alzati tutti e hanno battuto le mani. Noi poi abbiamo avuto un'accoglienza con le persone che quando ci vedevano Italia e Italia e tutti ci abbracciavano. Io questo ricordo ce l'ho indelebile nella mente e negli occhi. Sarà molto difficile dimenticarlo.